La tua mostra sarà un successo Qualcos'altro che avete dimenticato di dichiarare? E che cavolo è? Mingus, sei geloso? Chi? Io? Stai scherzando? Dovrei essere geloso solo perché il tuo ex è diversamente dotato, dorme sul mio divano? Perché martelli tutti con domande idiote? È sempre così disinibita, tua sorella. Quello è il mio accappatoio? Sto familiarizzando e cercando di insinuare. L'abbiamo fatta educare dalle suore. Sei di larghe vedute, vero, bel manzo? Sono un tipo all'antica. Da quando la tua famiglia è piombata qui, sembri un'altra persona. Papà, i genitori di Mingus. Oh, è mia madre, senza lingua. È solo vapore. Tuo padre riga le portiere delle macchine. C'è preso per dei salvaggi. C'è un autista qua fuori che chiede i danni. Figuratisi. Oh, no. Non mentirmi, Marion. Non ancora? Sono alieni. Due giorni a New York. Che carino. Si è iscritto al Ku Klux Klan? Ciao, paio. Che carino? Che carino? Che carino? Grazie per la visione!